Michela Cerruti ha la presentazione del campionato italiano turismo TCR in veste di rappresentante Alfa Romeo raccontaci un po' il progetto, le esperienze che avete raccolto e quanto è possibile adesso di vedere Alfa Romeo, Giulietta, TCR protagonista anche nel campionato italiano Il progetto è stato sicuramente lungo e difficile però durante la scorsa stagione nel campionato internazionale abbiamo potuto sviluppare la macchina e siamo passati ad avere un prodotto che inizialmente non era competitivo ad avere oggi una macchina che può battersi con le altre per cui abbiamo ricevuto tante richieste so che saremo già presenti sia nel campionato internazionale che in quello asiatico e ci sono ottime probabilità di vederci anche nell'italiano che ovviamente per noi sarebbe un grandissimo piacere Sì, è stato il mio primo anno nelle corse dal 2008 con un Alfa Romeo 147 capi in realtà e nel 2009 col Cinquone sempre nella famiglia Romeo Ferraris sempre a fianco di Mario Ferraris per cui stiamo facendo adesso un lavoro diverso insieme sicuramente più importante però è un campionato a cui siamo affezionati ed è quello di riferimento per la nostra vettura per la vettura che abbiamo costruito adesso per cui contiamo di esserci grazie grazie